Bassano continua a far discutere il caso del falso ginecologo del San Bassiano Andrea Stampini. Le sue recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa stanno provocando l'ira di moltissime ex pazienti. Nelle ultime ore infatti Stampini ha dichiarato di non comprendere tutto questo accanimento nei suoi confronti ma di essere anzi sempre più convinto di essere meritevole di una laurea non riscausa per tutti i bambini che ha riuscito a far nascere anche in situazioni da lui definite critiche. un caso dunque quello del falso ginecologo del San Bassiano che non smette di far discutere.